Ma che noia! Salvata dalla campanella! E adesso mangiamo! Dov'è il mio pranzo? E adesso che mangio? Quella sembra così buona! Niente snack gustosi per me! Ehi! Ne vuoi? Sei la migliore! Almeno io ho un panino! Adoro il tacchino! Anche io! Facciamo a metà? Che buono! Sì, prendilo! Ti devo un favore? Cos'è rimasto qui? Ha un dolce! Quale dolce? Prenderà anche quello! Ma è gesso! Torno subito! Ti piace lo zucchero a velo? O fosse qualcosa che gli somiglia? Ah! Che profumo incredibile! Non devi neanche chiedere! È tutto tuo! E c'è tanto zucchero! Credo di essere allergica! Quasi! Che c'è che non va con questo coso? È aspro! Se ridi... Diventerà virale! Cosa c'è per pranzo? Sto morendo di fame! Vuoi un morso? No, sto cercando di mangiare sano! Vuoi un po' del mio? Grazie! Cavolo, ma sa di erbaccia! Leva quella robaccia! Beh, non può essere così male! Ah, sì che può! Il cioccolato di Steven! Io so cosa sceglierebbe tra i due! È arrivato il momento di uno scherzo! Questi cavoletti di Bruxelles stanno per diventare molto più dolci! Mettine uno su uno spiedino come questo! E poi immergilo nel cioccolato fuso! Mmm, che delizia! Non dimenticare gli sprinkles! Più sono meglio è! Qualcuno vuole un K-pop? Cavolo, queste patatine sono così buone! Oh, Steven! Lascia spazio per il dolce! Ma sono per me! Bella, tu sì che sei una grande! Sono alla vaniglia? Oh! Sa di schifo un ricoperto di cioccolato! Beh, sì, direi che ci hai azzeccato! Mi sento strano! Oh, sì! Qualcuno ha i biglietti per lo spettacolo da noi? Wow, hai preso posti in prima fila! Meno male che abbiamo un ventilatore! Non può rompersi adesso! Fa così caldo! Non riesco nemmeno a prendere l'acqua! Ah, nemmeno io! Chi perde deve prendere l'acqua! Le forbici battono la carta! La tua metà e la mia metà! Non berne troppa! Oh, com'è rinfrescante! Ora basta! Oh, quell'acqua era fantastica! L'hai bevuta tutta! Sei un'idiota! Oh, è ancora caldo! Ma guarda un po' questa saponetta! Oh, gliela farò pagare! Ho bisogno di un bicchiere E un po' di cioccolato Tutto bello squagliato Dopo serve la saponetta e un bastoncino per i ghiaccioli Faccio scorrere la saponetta sul bastoncino E ora immersione nel cioccolato Proprio nel bel mezzo Bisogna rivestirla tutta Sembra proprio reale Evviva! Sono tornata! Guarda cos'ho! Oh, sembra fantastico! Adoro il gelato al cioccolato! Uh, ed è alla fragola! Oh! Ma fa schifo! Te lo meriti! Che cosa? Bolle! Ma non c'è acqua! Bolle ovunque! Goditi la tua bocca tutta insaponata! Ben sia! Forse posso prenderne un po' Wow! Ehi! Ops! Non volevo farlo cadere! Forse non è successo nulla! Oh! Purtroppo si è rovinato! E ho fatto un bel casino! Mi dispiace, Sofia! Guarda la mia mano! Torno subito! Aspetta un attimo! Lily, aspetta! Lasciami fare pipì, ok? Ok! Ora gliela faccio pagare! Vedi questa saponetta? Sta per diventare inutilizzabile! Se coperta con dello smalto trasparente, non può più fare il suo lavoro! Ora prova a lavarti le mani! Chiamatemi la regina degli scherzi! È tutto tuo! Questa roba rimane appiccicata! Ma cosa? Perché non c'è la schiuma? Sofia era qui prima di me! È stata lei! Oh, questo video è così intenso! Spero che lei non venga morsa! Non posso guardare! È terrorizzata, guarda! Ehi! È la nostra occasione! Boo! Ma perché l'hai fatto? Ho fatto cadere tutti i popcorn! Penso proprio che dovrò vendicarmi, sì! Così abbasseranno un po' la cresta. Vedremo chi è il più fifone. Diamoci da fare subito! Questo trucco è fantastico! Così realistico! Ok, bisogna dargli una forma adesso. Voglio che sembri una bocca. E deve uniformarsi al colore della mia pelle. Meno male che ho il fondotinta. Rendiamo le cose più schifose. Deve sembrare un libido. E ci deve essere molto sangue. Perfetto! Sta venendo benissimo! Deve sembrare che anche l'infezione si diffonda. Sì! Proprio così! Sembro messa proprio male, vero? E per finire anche il sangue finto. Sì! Si pentiranno di avermi spaventata. Che lo spettacolo inizi! Oh! Au! Qualcuno mi ha morsa! Ed è proprio brutto! Che? Oh mio Dio! Au! Ah! Che cosa hai fatto? Oh mio Dio, sei infetta! Sta lontana da noi! Ci siete cascati! Dovreste vedervi! Così imparate a spaventarmi! Oh! Sto così male! Oh! Si sente che stai a pezzi! Oh no! Una festa! Una festa? Fammi vedere! Ma non posso andarci! Sto male! Mi spiace per te! Ciao! Cavolo! Non è giusto! Aspetta! Questo rossetto funzionerà! Ha! Così impara ad abbandonarmi! Oh! Sta tornando! Devo nascondere tutte le prove! Allora, come sto? Ok! Fa come vuoi! Ah, sì! Sta bevendo dalla bottiglia! Ah! Finito! Pronto ad andarmene! Ciao! Ci vediamo! Ah! Se la vedrà brutta alla festa! Facciamo casino! Questa festa è fantastica! Oh, com'è carina! Ciao! Bella festa, vero? Scusa, non sei il mio tipo! Che? Peggio per lei! Ehi! Bella canzone, vero? Cosa? No, grazie! È la mia occasione! Ehi! Vuoi fare due chiacchiere? Mi piace quel rossetto! Scelta audace! Etto, ma di che stai parlando? Ecco! Tieni! Ah! Ma che cavolo! Sofia! È troppo per me! Molto importante! Allora è meglio se mi scrivo tutto! Scommetto sarà nel test! Ups! Ho sentito! Chi di voi sta masticando la gomma? Annie? Sei tu? Vieni qui! No, non ero io! Era Kate! Sul serio? Kate, vieni qui! Sputa la gomma nella spazzatura! Adesso! Va bene! Se proprio devo! Annie, sei proprio una sfia! Sei tu quella che ha esagerato? Annie, sei così cattiva! Oh! Mi è caduta la plastilina! Va bene! Quella plastilina potrebbe servirmi! Sì! È ora di vendicarmi facendo uno scherzetto! Aprirò il contenitore e tirerò fuori un piccolo pezzo di plastilina! La premerò facendo un cerchio piatto! E ora dovrò usare una matita! Aggiungerò alcuni puntilina e altri effetti! Sì, sembra perfetta! È pronta per l'uso! Devo afferrare una ciocca di capelli di Annie! Non voglio essere beccata! L'avvolgerò in questo modo! Ah, speriamo che non si accorga! Devo finire subito! Fatto! Oh no, Annie! Hai la gomma nei capelli! Oh, che schifo! Togliela, togliela! Tirala fuori! Ma aspetta! Non è gomma! Ci sei cascata ancora una volta! Giocare in bagno è divertente! Fin quando non c'è qualcuno fuori che se la sta facendo sotto! Non sei molto rispettosa, Lily! Dai, apri! Non ce la faccio più! Oh! Ma quante storie! Ma io so come fare per liberarmene una volta per tutte! Questo scarafaggio è perfetto! Metti un paio di questi insetti sul sedile del water! Vedrai che effetto che faranno! Non dimenticare di chiudere il coperchio in modo che non si vedano! Il bagno è tutto tuo! Finalmente! Qualcuno chiami la disinfestazione e siamo invasi dagli scarafaggi! Ma perché non si muovono? Beh, perché sono di plastica, Lana! Non sono reali! Lily, questa me la paghi! Un po' di mascara! Eh dai! Devo andare in bagno! Ci sono io qui! Devi aspettare! Ci mette sempre una vita a truccarsi! Non posso trattenerla per sempre! Hai fatto o no? Per colpa sua ho sbagliato! Adesso devo ricominciare da capo! Da dove arriva questa moneta? Mi è venuta un'idea! La fisserò sotto il rubinetto! Non se l'aspetta, ne sono certa! Sarà epico, sì! Tieni! Puoi usare il bagno! Finalmente sei la peggiore! E adesso aspettiamo! Va molto meglio! Assurdo quanto mi ha fatto aspettare! Devo lavarmi le mani! Wow! Basta! Sono fradicio! Oh, finalmente! Ma sono zuppo! Com'è possibile? Scommetto che è stata lei! Sorella, sai quanto può essere divertente passare una giornata insieme? Mettiamoci un po' di balsamo per le labbra, che dici? Potevi almeno chiedere prima! Vabbè, io mi metterò la lozione! Ehi! Grazie, ma che buona! Respira! Non è divertente condividere con la propria sorella? Sì, è arrivato finalmente il momento di usare la mia maschera! Ma stai scherzando? Ci sei? Oh mio Dio! Ciao, Kevin! Oh, Lana non se ne preoccupa proprio, non è vero? Ma ora le faccio vedere io! E questa vernice è proprio quello che ci vuole! Basta spremerne un po' in queste confezioni! Una volta fatto, schiaccia per bene per assicurarti che la vernice si diffonda! Presto, sta tornando! Non dimenticare di nascondere tutte le prove! Accidenti, ci hai messo tanto! Ora puoi provare la tanto attesa maschera che mi hai rubato! Oh, non vedo l'ora! Sembra una maschera normale, ma aspettiamo qualche minuto! Non ho mai visto una maschera verde! Proviamo, va! Ora dobbiamo solo sederci e aspettare che faccia effetto! Sì, rilassati, Lana! Ci siamo! Ora avrai la pelle bella e idratata! Che bella sensazione quando togli la maschera dopo che ha fatto effetto! Accidenti! Ma cosa succede? Grande, Lily! Direi che lo scherzetto è ben riuscito! Ma faresti meglio correre! Devo ammettere che il blu ti sta benissimo! Carini, vero? Sì, blu originale! Oh, sì! Voglio spuntare, ma non troppo sul ciuffo! Non sul ciuffo! Cominciamo, che dici? Attento alle forbici, amico! Che bella luce qua dentro! Devi restare fermo, ok? Ehi, Sofia! Lo uccido, lo giuro! Todd ha lasciato fuori la tinta! Questo tizio non sa che non deve fare arrabbiare i parrucchieri! Balsamo? Certo, nei tuoi sogni! Userò tutto il placone! Già stai meglio! Il miglior balsamo di sempre! La temperatura va bene? Farà miracoli sui tuoi capelli! Bene! Non sono bellissimi? Come hai fatto a farli così? Nessuno ha dei capelli così! Ehi, grazie! Aspetta, non ti dovrebbero piacere! Li adoro! Quanta fatica sprecata! Ehi, Lana! Ti stai allenando? Sì, perché non ti unisci a me? No, preferisco mangiare le patatine che allenarmi! Ok, come non detto! Ora le faccio vedere io! Immergi un asciugamano come questo in un po' d'acqua mentre nessuno ti sta guardando! Accidenti, ho tanta sete! Mi serve un po' d'acqua! Oh sì, va molto meglio! Grazie, sorellina! Ammazza, non immaginavo che lo stretching mi avrebbe fatto sudare così tanto! Il mio asciugamano è tutto bagnato! Per fortuna ho portato questo barattolo per strizzare l'asciugamano! Oh mio Dio! Mi sono appena bevuta il sudore di Lana! Missione compiuta! Scherzi? Ed è per questo che è importante studiare i maestri della natura morta! Chi vuole venire? Oh, io, io, io! Chiama me, mi offro volontaria! Va bene, Kate, per favore, vieni qui! Io? Oh, va bene! Non è giusto, volevo andare io a Kate, va sempre bene! La vernice è laggiù! E ho un'idea! Sì, funzionerà! Toglierò il coperchio da questo contenitore di vernice! Ora ho il suo block notice! Lo metterò sopra il contenitore di vernice e poi la capovolgo con attenzione! Ah, non vedo l'ora di vedere la sua reazione! Uscirà matta! Sono tornata! Oh wow, Annie, il tuo dipinto è fantastico! La campanella, la lezione è finita! È meglio che invalliamo tutte le cose! Non dimenticarti la vernice? Sì, grazie! Oh no! L'intera latta si è rovesciata! E anche sul mio blocco note! Mi ci vorrà un'eternità per pulire tutto questo! Vernice gialla ovunque! Non userò mai più questo colore! Questo è tutto! Annie la pagherà! Non la perdonerò mai! Sembra che io sia in vantaggio, Kate! Tanto vale smetterla! Te batte la gioia di portare a casa un nuovo computer! E ci sta benissimo qui sulla scrivania! Wow, com'è brillante! Ci divertiremo così tanto insieme! Abbiamo una lunga giornata che ci attende! Fatti pulire! Brillante come al solito! Ehi, signor computer! Sei piuttosto polveroso oggi! Ti ho portato qualcosa di speciale? O vuoi questo? Questo è il posto perfetto! Ehi, ti dispiace se studi un po'? No, no, sono molto impegnato, vedi? Non ci vorrà molto! Non significa no, capito, Bella? Su, adesso lasciami solo! Ecco, perfetto! Nessuno può toccare il tuo prezioso computer, eh? Beh, vedremo! Questo schermo finto lo spaventerà a morte! È stato facile! Peccato che non ci siano popcorn per lo spettacolo! E il tocco finale? E il tocco finale? Steven! Bella! Che succede? Ho avuto un piccolo incidente! Cosa? No! Perché no? Perché il mio computer? Perchè ridi? Asciuga quelle lacrime! È soltanto uno screensaver! Oh, non sono mai stato così felice in tutta la vita! Adesso posso scrivere il mio articolo? Ma se lo graffi, io giuro! Sto facendo uno sbaglio enorme! No, ho sbagliato il compito! La mamma non mi farà più uscire! È la fine! È come se fosse ovunque! Ha appena sorriso! Oh, no! Ciò non è così grave! Ma è un quattro, vedi? Togliti quel broncio! Ci serve soltanto un piano! Ed io... Ne ho già uno! Che stai facendo? Ehi! Shhh! Ciao, mamma! Come stai? Qualcosa non va? Ah, ehm... Che cosa hai lì dietro? Ah, nulla! Ok, dammelo subito! Va bene! Ecco il segnale! Trema, trema! Il terremoto! Restiamo calme, tesoro! Sta funzionando! Che scosta paurosa! Speriamo di uscirne vive! Corri! Sì, ha funzionato alla grande! È arrivata! Che allenamento! Di nuovo con le unghie! Kevin, ma non si fa! Ci arriverà mai a capire come ci si dovrebbe comportare? Beh, è arrivata l'ora! Sì! Spero che tu sia pronto! Sembra che ti serva una bella ceretta! Hai mai sentito parlare di spazio personale, Lily? E adesso? C'è solo un modo per uscirne! Oh cacchio! Devi solo strappare come se fosse un cerotto! La mia gamba! Ammazza quanti peli! Possiamo tornare alle nostre unghie adesso? Che belle emoji! Ehi, guarda qui! Leo si è tagliato i capelli! Che figo! Che figo! Sì! Mandagli un selfie! Ok! Vediamolo! Cosa? Non sapevo di avere un mento così! Penso che sia colpa dell'angolazione! Cheese! Ecco! Incredibile! Peggio di prima! Penso che dovrò rifarmi il mento! No! Dammelo! Ti aiuterò io! Basta usare un buon editor per le foto! E grazie a qualche piccolo aggiustamento! Cosa? Fidati! Adesso va meglio! Vedi? Penso che tu abbia bisogno di occhiali, ragazza! Vuoi fare la spiritosa, eh? Io mi sento veramente brutta! Oh, va tutto bene! Aspetta! Devo solo aggiungere qualche piccolo oggetto di scena! Ok, Naomi! Eccoti qui! Dai un'occhiata a questo diviso! Eh? Vuoi che la metta? Va bene! Sì, sì! Infilatela! In questo modo? Bene! E ora che cosa faccio? Scusa! Mi sento uguale a prima! Io me ne vado! Sembro un mostro! Sono un caso disperato! Lontano da me! Calmati, calmati! Aspetta solo cinque ore, ok? Dai, su! Andiamo a sederci adesso! Oh, che ore sono? Penso che sia arrivato il momento di toglierla! Ah-hah! Speriamo bene! Ehi! La mia faccia è diversa, sì! Per quanto tempo l'hai tenuta? No, no, no! Non farlo! Santo cielo! Che cosa ho creato? Oh, un messaggio! Cos'è esattamente? Oh, che paura! Credi gli sia piaciuto? Oh, perché mi ha bloccata? Credo di avere le lacrime incastrate negli occhi! Guarda la seduta lì! Ignara di tutto! Presa! Ah-hah! Avevi così tanta paura! Avresti dovuto vedere la tua faccia! Oh, quel cretino! Farmi spaventare in quel modo! E ora un bel caffè e uno snack! Mi intrufolerò e... Presa! Ah-hah! Ci sei cascata ancora! Ma è davvero troppo facile! Ma che problemi ha? Questa volta sarà la migliore di tutte! Oh, quel cretino! Lo vedo dallo specchio! Ora gli faccio vedere io con i miei strumenti di bellezza! Mi sto solo facendo le ciglia come sempre! Ah! Oh! Le mie ciglia si sono staccate! Le tue ciglia si sono staccate! È svenuto! Ah-hah-hah! Adesso non ridi più, eh! Penso che potremmo prenderne uno bello grosso! Sì, abbiamo solo bisogno dell'attrezzatura giusta! Il segreto è saper tirare bene la lenza così! Devi immedesimarti nei pesci! Fa il serio! Ora tienimi la canna! E ci servono anche le esche giuste! Guarda, vermi! Questi andranno benissimo! Te lo dico, con tutto questo prenderemo qualcosa di grosso! Posso vedere l'esca? Wow! Fanno proprio schifo! E ho un'idea! Me ne andrò pian pianino! Ok, ci sono riuscito! Ora devo solo aprire la porta! Ed eccola! Dorme profondamente! Sarà lo scherzo migliore di sempre! Ehi, vermetti! Pronti ad aiutarmi con questo scherzo? Credetemi, è meglio che essere mangiati da qualche pesce! Il dentifricio è perfetto! Devo solo prendere uno di questi vermi! Sono così viscini! Perfetto! Piccolo verme nel dentifricio! Un altro! E l'ultimo! Vai dai tuoi amici! Ora lo rimetto dov'era! Impazzirà! Wow! Ma quanto ho dormito! Meglio svegliarsi e cominciare la giornata! Uff! Sono ancora stanca! Sì! Mi devo dare una bella rinfrescata! Vado a lavarmi i denti! Sono libero! Sono fuggito! Ho ancora così tanto sonno! Ho ancora così tanto sonno! Un attimo! C'è un verme sul mio spazzolino! Mi sa che ci siamo mangiati 50 crocchette! Oh! Non mi sento tanto bene! Ma hai sentito? Neanche io mi sento tanto bene! E abbiamo un solo bagno! E sarà mio! Ah sì? Corri! Oh! Non ho visto quella buccia di banana! Oh! Torna qui! Sei troppo lento, Babbeo! Ah! No! Bella, mi serve il bagno adesso! Ah! Devo andarci! Ci metterò un po'! Oh! Non posso più resistere! Mi fa male troppo la pancia! Forse salterò persino il dolce! O forse no! Cioccolato spalmabile! Assomiglia proprio tanto a... Eh già! Questa roba è perfetta per uno scherzo epico! Bella lo dirà di sicuro! Ecco qua! Una bella spalmata! Mi spiace! Non è una cosa tanto carina! Devo nascondere le prove! Oh! La mia pancia! Ho fatto un disastro là dentro! Ed è tutto tuo adesso! Oh! Stai bene, Thomas! Accidenti! Oh! Te la sei fatta letteralmente sotto! Smetti di toccarti! È dappertutto! Ma che schifo! Ma è? Mi sto per sentire male! Oddio! E' andato meglio di quanto avrei immaginato! Il mattino bisogna essere svelti se si vuole usare il bagno! Scusa! Ma mi dovevo fare le sopracciglia! Oh! Guarda il casino che hai lasciato! Ma perché non sono figlia unica? Non avresti potuto fare degli scherzetti! Non è così? Per questo scherzo avrei bisogno di farina! Cominciamo! Portala di nascosto in bagno e versala su un asciugamano bianco in modo che non si veda! Metticene un bel po'! Devi fare in modo che si assorba! Penso che possa andare! Assicurati che l'asciugamano sia al suo posto come sempre! Spero che a Lily piacciono i trattamenti a base di farina perché ora sono cavoletti suoi! Che giornataccia! Voglio solo togliermi tutto il trucco e rilassarmi! Iniziamo dalle labbra e poi una bella spruzzata di acqua! Lana! Scateniamo la creatività! Vediamo! Sì! Farò un capolavoro degno di Michelangelo! Questa è la coda, credo, sì! Assomiglia a un cavallo, vero? Prenderò un bel dieci! Oh, forse no! È più difficile del previsto! Sembra la mia pelle! Il che mi fa venire un'idea! Metti un po' di argilla sulle dita! Deve essere bella, bella liscia! Con un bastoncino, fai un piccolo taglio così! Adesso usa il correttore per amalgamarla meglio! Prendi la pittura rossa e riempi il taglio! Va bene anche se non è perfetto! Mica posso andare a scuola così! Mamma! Guarda che taglio! Oddio! Facilissimo! Questo dovrebbe fermare il sangue, piccola mia! Povera la mia scimmietta! Non mi ha nemmeno fatto male! Cereali! Cereali! Guarda quelle piccole sfere di cioccolato! Una delizia! La mia colazione preferita in assoluto! E ora il latte! La quantità perfetta! Finalmente! Ce ne deve essere altro! No, no, no! È finito! Non mi piace così! Non li voglio più! Ah! Una telefonata dalla mia persona preferita! Oh! Devo parlare assolutamente da un'altra parte! Oh! Devo assolutamente rispondere perché sono così importante! Sono ancora arrabbiata perché si è strafogato tutto! Ha lasciato i cereali! Oh! Ho un'idea! Prenderò il cibo per i gatti! Che odoraccio! Qui, micio micio! Era una chiamata molto importante! E ora la colazione! Sì! Lo sta facendo! Ha preso una bella cucchiaiata! Evviva il cioccolato! L'ho fatto! L'ho fatto! Ma cosa... Che schifo! L'ho sputato! Che cosa hai fatto? Facciamo a cambio! Ora tu mangi questi! Betty sta ancora dormendo? Ora le faccio uno scherzo! Tutti vogliono più capelli, giusto? Beh, forse non qui! Oh no! Penso si stia svegliando! Ci è mancato poco! E devo portare via tutti i gadget! Quei peli rimarranno dove stanno! Che cosa ho sopra il labbro? Ho qualcosa in faccia? Non può essere! Va tutto bene, li toglierò subito! Dov'è il mio rasoio? Aspetta! Ho un'idea! Ma non c'erano un paio di forbici da queste parti? La mia scatola di cianfrusaglie! Ci deve essere qualcosa di utile qui! L'epilatore con filo elettrico! Credo che possa andare bene anche per i baffetti, sì! Tanto vale provarci! Sembra che i peli si stiano staccando, sì! La mia pelle è così secca oggi! Ma quella è la crema idratante di Naomi! E' ora di ricambiare lo scherzetto! Ok! Devo fare anche la zona del petto! La pelle è così sensibile qui! Adesso mi farò due risetti! Non mi rimane che prepararmi per stasera! Cosa sta spuntando sulla vestaglia? Peli sul petto! Com'è possibile? Com'è successo? Accidenti! Chissà se la musica fa aumentare l'appetito! Perché in questo momento ho voglia di hot dog! E sono appena fatti! Serve solo un po' di ketchup! E senape! Ecco! È una vera opera d'arte! Buonissimo! Mi stavo dimenticando! Ma guarda che hot dog! Pranzo gratis! Non dovrei! Dai! Che scherzo! Ah! Thomas! Ritorna subito qua! È troppo avido! Gli piacciono gli hot dog, eh? Vedremo! Ma prima mi servono degli spiedini di legno! E ora mi serve mezzo hot dog! Perfetto! Ora passo lo spiedino nella parte superiore! E poi un altro in quella inferiore! Lo tengo fermo e verso il ketchup! Tanto ketchup! Sembra un dito, vero? Thomas ci cascherà di sicuro! È proprio quello che ci voleva! Thomas, aiuto! Il mio dito! Che ho? Oh! C'è sangue dappertutto! Eh? Ma che ti ridi? Ah! Smettila! Puoi guardare, Thomas! Io sto bene! È un hot dog, vedi? Geniale però, non è vero?